Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio di All's Training Analysis Allora io devo capire perché vedete sempre Non era più lunga l'intro? Ma non era dove l'errore prende valore? E oggi no, non è sempre uguale, è come striscia la notizia, ogni volta cambia Allora io sono Alberto Lessi, sono qui con Marco Pagliai e oggi c'è anche Framinia Bologna che è qui con noi e non è un ospite E non è un ospite, parte integrante del team di addestramento etologico E perché? Perché oggi è qua? Siamo qua per parlare di una ricerca molto importante, posso già partire a introdurre E come? A spoilerare tutto Abbiamo avuto il grandissimo onore di poter fare domande direttamente a una delle veterinarie più rinomate al mondo che è la dottoressa Sue Dyson che oltre ad essere una veterinaria ortopedica specializzata in medicina sportiva è anche un'amazone, è stata un'amazone per molto tempo e ha preparato anche diversi cavalli a livello proprio di addestramento per competizioni di alto livello specialmente nel completo Quindi possiamo dire che appunto è una veterinaria ad altissimo livello ma anche una persona che lavora poi proprio con i cavalli e che ha fatto anche molta ricerca In particolare uno dei suoi studi più importanti uscito già qualche anno fa è questo sull'etogramma dei 24 comportamenti principali che indicano stress o disagio nel cavallo montato Quindi ripartiamo un attimino dall'inizio Praticamente abbiamo intervistato la dottoressa Sue Dyson perché sempre nella ricerca di individuare tutti i modi, i meccanismi per riconoscere e segnare il disagio del cavallo per migliorare il suo benessere, il suo addestramento, la sua interazione con l'uomo Siamo andati alla fonte questa volta Siamo andati alla fonte per cercare di capire cos'è questo studio perché come dicevi è già un po' di anni che è stato fatto È già un po' di anni che c'è ed è uno strumento potentissimo perché è uno strumento oggettivo che ci riporta una serie di segnali che tutti possiamo osservare dal più almeno pratico di cavalli che indicano per forza se sono mostrati con una certa frequenza con una certa durata di tempo che per forza c'è qualcosa che non va nel cavallo che il cavallo sta manifestando qualcosa di sbagliato e quindi appunto andiamo un po' a cambiare questa cultura della femmina antipatica, del cavallo testardo del normalizzare certi atteggiamenti e certe espressioni Esatto, questo è uno strumento molto importante che è già stato studiato da un po' di tempo ma a cui evidentemente non siamo ancora raggiunti È ancora questo sconosciuto Allora andiamo subito a conoscere la dottoressa e cominciare a vedere un po' che cos'è questo etogramma Esatto, lei parte spiegandoci appunto cos'è le varie fasi dello studio, come hanno scelto i cavalli e appunto quali sono stati i comportamenti presi in considerazione Bene, la parola etogramma significa una serie di comportamenti ognuno dei quali ha definizioni rigorose Quindi, ad esempio, orecchie indietro per 5 secondi o più Dunque, gli scopi dello studio erano di determinare se ci fosse o meno una differenza misurabile nei comportamenti che sono stati mostrati in cavalli che non provano dolore rispetto a cavalli che avevano dolore muscolo scheletrico che si tratti di mal di schiena o di zoppia L'ipotesi era che ci sarebbe stata una differenza se avessimo confrontato i due Se avessimo rimosso il dolore da cavalli che mostravano zoppia con l'uso di blocchi anestetici o di anestesia diagnostica il numero dei comportamenti che hanno mostrato si sarebbe ridotto quindi abbiamo iniziato con un gruppo di cavalli zoppi e di cavalli non zoppi I cavalli non zoppi venivano valutati nella conduzione a mano Ciascuno degli arti è stato flesso per un minuto poi i cavalli riprendevano il trotto e non hanno mostrato alcun cambiamento nella loro andatura Sono stati valutati nel lavoro alla corda sia su superfici dure che morbide e non hanno mostrato evidenza di anomalie nell'andatura E poi sono stati anche valutati montati al passo, al trotto, al galoppo e nelle transizioni e hanno lavorato volentieri e serenamente e senza presentare segni di zoppia o anomalie del galoppo Quindi quelli erano effettivamente i cavalli controllati Prima di selezionare quei cavalli li avevamo guardati dalle registrazioni video di un gran numero di zoppi e di non zoppi e avevamo stabilito un etogramma preliminare comprendente 117 comportamenti Abbiamo poi applicato quell'etogramma ai cavalli zoppi e ai cavalli non zoppi e da lì eravamo in grado di determinare quali comportamenti abbiamo visto molto più frequentemente nei cavalli zoppi rispetto ai cavalli non zoppi Quindi abbiamo riassunto 24 comportamenti la maggior parte dei quali erano 10 volte più osservabili in un cavallo zoppo rispetto ad un cavallo non zoppo Abbiamo quindi applicato l'etogramma dei 24 comportamenti o potremmo chiamarla anche una checklist ai cavalli zoppi rispetto ai cavalli non zoppi e la stragrande maggioranza dei cavalli zoppi mostrava 8 o più comportamenti su 24 Quindi il punteggio più frequente per i cavalli zoppi era di 9 su 24 mentre per i cavalli non zoppi erano solo 2 su 24 E queste differenze molto significative dal punto di vista statistico fra i cavalli zoppi e i cavalli non zoppi E poi quando abbiamo preso i cavalli zoppi e rimosso il dolore utilizzando blocchi anestetici per desensibilizzare le zone dolorose e poi abbiamo rivalutato questi cavalli montati e abbiamo visto che c'era una riduzione statisticamente significativa del numero di comportamenti mostrati Quindi si sono ridotti tutti a meno di 8 su 24 Il che ci ha detto che c'era una relazione causale fra tali comportamenti e la presenza di dolore e che questi comportamenti non erano comportamenti abituali perché quando rimuovevamo il dolore quei comportamenti scomparivano molto rapidamente Quindi c'era un'associazione causale fra i comportamenti e il dolore Ok, poi ci siamo chiesti siccome qua addestramento otologico si occupa principalmente appunto di addestramento Se fosse possibile notare questi comportamenti In questo caso la dottoressa appunto parla come avrete sentito del fatto che devono essere presenti 8 più comportamenti di questa lista per parlare di dolore Però sia possibile che questi comportamenti si manifestino soltanto per problemi comportamentali o per una memoria del dolore E lei appunto è andata un po' ad approfondire questa relazione tra dolore fisico e comportamento Perché quando porti via il dolore usando i blocchi anestetici che desensibilizzano la parte dolorosa la maggior parte dei comportamenti scompare Ora c'è un comportamento che non sempre scompare ovvero la coda storta quindi la coda tenuta da un lato Il motivo per cui pensiamo che non vada necessariamente via velocemente non è perché il cavallo stia ricordando il dolore Pensiamo che la postura della coda è il risultato di un'anomala tensione miofasciale e quella tensione miofasciale non scompare immediatamente Quindi non sembra esserci alcun ricordo del dolore Ora abbiamo fatto studi dove abbiamo esaminato ad esempio il comportamento durante il sellaggio e nel momento di salire in sella e abbiamo osservato un'associazione fra il numero di comportamenti mostrati dai cavalli durante il sellaggio o il momento di montare e la presenza di dolore dovuto ad una sella inadeguata o dolore associato a lesioni muscoloscheletriche e tali comportamenti non cambiano rapidamente Devi trattare il problema di fondo e consentire al cavallo di abituarsi nel corso di diverse settimane a non anticipare più il dolore durante l'esercizio fisico Ma questo è diverso dall'attuale etogramma del dolore del cavallo montato Ecco, questa è una ricerca super interessante proprio perché ci dà la possibilità di avere uno strumento in mano che è reale, che è concreto che è proprio oggettivo, non va a interpretazione Più di 400 cavalli tanti anni di studio, per renderlo consolidato quindi di fatto mi viene da dire vedo quella situazione, significa quello Poi la durata, insomma, tutto abbiamo detto che può essere disagio o meno, un ricordo o meno, eccetera però quando vedo quella situazione non va bene C'è qualcosa che non va Poi il perché sta a noi Cioè scoprirlo E questo infatti è interessante perché sulla base di questo studio insieme anche a Framinia forse qualcuno di voi se lo ricorda ma quest'anno a Fiera Cavallo abbiamo fatto un piccolo esperimento sociale dove abbiamo fatto appunto circolare questo volantino perché sta guardando il video podcast lo può vedere, dove c'erano proprio casualmente delle espressioni dove i cavalli manifestano disagio, fastidio, dolore non lo so, dipende da cosa però il risultato non è stato proprio preso perché non è stato preso come per quello che è come per un'informazione, una ricerca che da 4-5 anni dovrebbe essere più che conosciuta e molte persone hanno guardato questa e non hanno capito Proprio dicendo, affermando che magari appunto non si può da un fotogramma capire lo stato d'animo quello però è chiaro non diciamo quello esatto una delle tesi che vengono che sono state più usate ma che in realtà vengono usate da tanto perché di queste espressioni si parla ormai da tanto tempo un po' meno in Italia come sempre però una tesi che usano in molti è soltanto un frammento di tempo quindi quell'espressione, quell'immagine è solo un frammento di tempo ma se fosse un frammento di tempo perché è così facile trovare tutti questi frammenti? cioè è possibile che io cerco dressage o cerco qualsiasi cosa e mi escono 9 su 10 espressioni di cavalli terribili e quindi appunto è veramente facile trovarle e soprattutto quando le troviamo non gli diamo l'importanza che hanno ovvero magari vengono messe come copertina di una rivista come post fighettino infatti il problema grosso è che anche se fosse un piccolo fotogramma non rendendosi conto di quello che realmente in quel momento lì il cavallo esprime non puoi non lo posso usare come immagine rappresentativa non lo puoi usare come immagine insomma è qualcosa allo stesso che deve essere valutato in maniera brutta, negativa e questo manca in Italia tanto la ricerca appunto della dottoressa va a analizzare anche tutto un discorso proprio di tempistiche di permanenza di quel tipo di espressione sì che diciamo è un po' più profondo però nonostante tutto se il cavallo ha quell'espressione lì ecco sicuramente non è dimostrazione di felicità ecco e a maggior ragione tu dici nell'addestramento sicuramente capitano queste espressioni le vedi quando l'importante è capirle perché magari tu puoi decidere di dargli un'importanza piuttosto che un'altra smettere il lavoro cambiarlo non usarlo sicuramente come immagine del tuo libro no per dire o nel caso usarla ma spiegare il perché esatto sì ma poi quando si parla di comunicazione appunto di lavoro col cavallo è sempre un continuo guardare il cavallo per analizzare che sono le sue parole quello che dice lui e certe espressioni certo è chiaro che possano capitare e proprio per quel motivo lì devo imparare a vederle valutarle e vedere se davvero è un po' troppo insistente quel tipo di atteggiamento cioè a cosa è come risposta a quello che ecco è una conseguenza a cosa ho fatto cioè sono cose che devono essere tenute in considerazione infatti infatti è su tutti i manuali di equitazione queste facce ma anche quello ecco ora appunto perché poi quando ad oggi anche nella federazione nella formazione proprio di istruttori parliamo tanto di corsi di aggiornamento di appunto di cercare di evolversi e di rinnovarsi alle nuove conoscenze cavolo una ricerca del genere che ormai sono anni che è uscita che è conosciuta cavolo quella deve essere alla portata di tutti e studiata da tutti che siano istruttori che siano addestratori che siano addirittura appunto veterinari un altro appunto che abbiamo fatto alla dottoressa su Dyson è stato a portare un'altra delle tesi di cui si avvalgono appunto le persone che pensano che questo non sia un metodo di valutazione di appunto di stress e di disagio è che anche gli atleti che fanno sport ad alto livello nel momento dello sforzo fisico fanno espressioni contratte o doloranti quindi è riportabile questo concetto anche sul cavallo ci ha risposto la dottoressa abbiamo condotto studi su cavalli in gara abbiamo esaminato gare di completo di tre giorni di livello 5 stelle abbiamo esaminato il completo a bassi livelli abbiamo esaminato i gran premi a livello della coppa del mondo di dressage e gran premi di dressage di livello nazionale e abbiamo dimostrato che la maggior parte dei cavalli che durante il riscaldamento per il dressage o durante la competizione stessa durante la fase di dressage sembrano felici hanno un punteggio basso nell'etogramma quindi segnano diciamo 2 o 3 o 4 su 24 quelli che ottengono punteggi più alti durante il riscaldamento o durante la fase di dressage performano meno bene se parliamo invece di cavalli da completo ci sono più del doppio delle probabilità di non riuscire a completare il cross country se hanno un punteggio pari o superiore a 7 su 24 ciò dimostra che se il cavallo è a disagio performa meno bene abbiamo dimostrato esattamente la stessa cosa nel completo a bassi livelli se i cavalli ottengono un punteggio pari o superiore a 8 su 24 performano meno bene hanno meno possibilità di completare il percorso probabilmente non saranno fra i primi tre finiranno in fondo alla classifica il cavallo normale senza dolore sembra a posto durante il dressage e sembra stare ancora meglio nel salto ad ostacoli anche i cavalli che sembrano piuttosto infelici durante il riscaldamento del dressage cambiano nel loro atteggiamento e nelle espressioni facciali quando iniziano a saltare penso che sia perché hanno il rilascio di adrenalina ed endorfine che li portano a sentirsi bene non possono comunicarcelo ma penso che generalmente preferiscano saltare piuttosto che fare dressage perché la fase di dressage è più lunga e impegnativa dal punto di vista muscolo scheletrico quindi si sentono più a disagio durante la fase di dressage indiscutibilmente possiamo dire che la maggioranza dei cavalli sportivi almeno ad alti livelli lavorano comodamente e se la passano bene purtroppo ai livelli più bassi c'è una percentuale più alta di cavalli che sono meno al loro agio e di conseguenza performano meno bene una cosa che ci siamo chiesti è se appunto questo etogramma è arrivato anche sui campi gara perché effettivamente i campi gara in realtà i campi anche dei maneggi privati perché sembra esatto per chiederci se nel mondo è cambiato qualcosa grazie a questo etogramma e essendo la dottoressa Sudai sono una persona che oltre appunto ad essere molto competente su tanti aspetti è anche una persona che viaggia molto e quindi vede anche molte situazioni diverse e tratta cavalli di diverse discipline quindi appunto ci può sicuramente dire e ce lo dice in questa risposta se questo etogramma ha effettivamente già apportato un cambiamento indiscutibilmente la risposta è sì i veterinari di tutto il mondo hanno dimostrato molta attenzione così come il pubblico di proprietari di cavalli penso che per quanto riguarda il pubblico di proprietari dei cavalli l'etogramma ha permesso loro di avere uno strumento per convincere i veterinari che il loro cavallo ha un problema ho incontrato molti clienti nel corso degli anni che erano molto frustrati perché sentivano che c'era qualcosa che non andava nel loro cavallo mentre montavano hanno portato il loro cavallo ad esaminare da un veterinario o il veterinario è andato da loro e il veterinario ha effettuato un esame relativamente superficiale hanno visto il cavallo passeggiare e truttare a mano e hanno detto non vedo alcuna zuppia potrebbero forse aver visto il cavallo muoversi alla lounge al trotto e dicevano non ne vedo alcuna zuppia il cavallo deve stare bene il problema che stai riscontrando durante l'esercizio fisico deve essere comportamentale o deve essere dovuto al tuo allenamento i proprietari sono stati straordinariamente frustrati da ciò perché erano convinti che ci fosse qualcosa che non andava nel loro cavallo ma ora i proprietari hanno uno strumento per dire bene guarda il mio cavallo mostra 10 dei 24 comportamenti ciò indica che deve per forza provare dolore per favore guardami montare questo cavallo per favore indaga ulteriormente i proprietari di cavalli lo hanno trovato rassicurante i professoristi veterinari stanno imparando più lentamente molto lentamente come valutare cavalli montati perché è una cosa che non è mai stata insegnata nelle scuole di veterinaria ti viene insegnato come vedere la zoppia nessuno ti insegna come valutare un cavallo montato nessuno ti dice che in alcuni cavalli vedrai il problema del cavallo solo durante movimenti di livello avanzato nessuno ti dice alla scuola veterinaria che il cavallo può sembrare diritto al trotto quando viene cavalcato ma può galoppare terribilmente e ciò indica il dolore muscolo-scheletrico quindi è una progressione lenta nell'educazione dei professionisti veterinari ma è anche utile e lo so tramite feedback da tutto il mondo che tanti altri professionisti lo trovano utile quindi ad esempio vengono da me saddle fitters che mi dicono wow ora ho uno strumento che mi può aiutare a valutare quanto sia a suo agio quel cavallo con questa particolare sella in tutto quello che ho fatto nella mia ormai lunga carriera questa ricerca ha avuto la maggiore attenzione globale e penso che stia iniziando a provocare un cambiamento ma ovviamente il cambiamento è lento e ovviamente ci sono persone che non ci credono per esempio alcuni istruttori professionisti dicono beh dobbiamo per forza portare il cavallo a fare questo devi solo lavorare più duramente hai solo bisogno di dare segnali più forti o devi avere un'imboccatura più forte o devi avere speroni più lunghi e porteremo per forza il cavallo a fare questo e quelle persone hanno ancora bisogno di essere convinte sul valore di guardare il cavallo e di ascoltare il cavallo e penso che sia potenzialmente un beneficio perché se riconosciamo che c'è un problema e lo identifichiamo il problema mediante un'indagine adeguata e poi gestiamo correttamente il cavallo allora migliorerà le sue prestazioni e il cavallo diventa più facile da montare diventa più comodo da montare quindi anche tu come cavaliere hai meno probabilità di soffrire di mal di schiena e il cavallo avrà più successo come spesso diciamo poi un po' la rovina del cavallo è quello di essere un animale molto tollerante un animale che appunto ci perdona tantissimo e anche a richieste sbagliate anche a pressioni troppo esagerate in qualche modo si adegua diciamo le subisce rimanendo in silenzio questo però è un po' l'arma la conferma a certe persone che quel modo lì funziona lo stesso che insomma a certi risultati arriviamo allo stesso non dando allora attenzione e interesse all'interpretazione di queste espressioni questo però dobbiamo capire è un limite enorme non solo per un discorso proprio di creazione di un certo tipo di rapporto di benessere dell'animale ma anche proprio un discorso di migliore performance se rimaniamo a parlare solo di aspetto proprio competitivo io penso che la parte rapporto è fondamentale su questo perché se io riesco a capire intercettare questi fastidi disagi per dargli un'importanza sicuramente andrò a creare un legame maggiore sicuramente il cavallo quando gli andrò a chiedere se trovo il momento giusto farà e mi darà tutto sarà tutto più facile più veloce accetterà meglio meno contrasti diventa tutto più strutturato sicuramente il tempo è diverso l'addestramento sarà fatto diverso la persona dovrà essere molto attenta a questi atteggiamenti perché quando lo prendi nel box ti comincia a dare dei segnali e magari dici guarda torniamo al discorso lavorare uno a uno non standardizzare è molto più completa come un ottimo strumento per andare a affinare quello che è l'approccio individuale dell'addestramento percorso individuale penso che la gente non capisca come i cavalli sono storicamente e come continueranno ad andare avanti nonostante tutto sono straordinariamente tolleranti e compiacenti vogliono aiutare noi cavalieri credo e questo va al loro discapito e dobbiamo educare le persone che prima vengono riconosciuti i problemi tanto più probabile è che saremo in grado di risolvere il problema a lungo termine perché se i problemi sono presenti da troppo tempo il cavallo sviluppa adattamenti secondari quindi il cavallo che ha a che fare con una zuppia tende a ridurre la gamma del movimento della schiena e di conseguenza i muscoli della schiena si atrofizzano diventano più piccoli e quindi la schiena diventa meno stabile e poi entri in un circolo vizioso in cui si sviluppano sempre più problemi dobbiamo quindi incoraggiare le persone a pensare che l'intervento precoce sia la soluzione migliore un'altra cosa che ci siamo chiesti a proposito appunto di questa ricerca siccome ha valutato specialmente cavalli montati che è una fase che solitamente non viene fatta quando si fa una visita veterinaria in questa ricerca è stata trovata una connessione tra i finimenti utilizzati e i comportamenti dei cavalli analizzati dal lavoro clinico di base abbiamo osservato molte molte volte che ad esempio un arcione stretto è scomodo per il cavallo e modificherà il suo comportamento cambierà la posizione della testa e del collo la testa e il collo inizieranno ad andare su e giù irrigidiranno la schiena cominceranno a fare passi indietro quindi gli arcioni stretti sono una delle caratteristiche più importanti ma anche l'adattamento della sella per il cavaliere è importante perché influenza la sua distribuzione del peso penso che non venga prestata abbastanza attenzione a queste cose l'adattamento della sella per il cavallo e l'adattamento della sella per il cavaliere perché se il peso del cavaliere è concentrato troppo verso la paletta della sella il movimento della schiena del cavallo sarà gravemente compromesso e si sentiranno scomodi e poi sviluppano una zoppia secondaria causata dal disagio alla schiena quindi dobbiamo guardare sempre il quadro completo questo tipo di ricerca ha analizzato tutto quello che è il fastidio il dolore nel cavallo montato e una cosa interessante che appunto abbiamo chiesto alla dottoressa è proprio quello di capire se c'è anche una connessione fra un discorso di gestione e un discorso di manifestazione appunto più o meno manifestazione di questi comportamenti anche perché per noi è fondamentale un certo tipo di gestione per la serenità del cavallo esatto e se appunto c'è una connessione tra come i cavalli si comportano poi in campo o se magari fanno una vita totalmente di reclusione poi è molto più probabile che effettivamente non siano serenissimi anche nel resto della loro vita ma sicuramente la dottoressa appunto dà una risposta molto più completa non penso che abbiamo abbastanza prove scientifiche per affermarlo ma per la mia sensazione personale e la mia osservazione dei cavalli quando consiglio un programma di riabilitazione sottolineo sempre l'importanza dell'ambiente naturale del cavallo il fatto che abbia bisogno di muoversi il più possibile ha bisogno di mettere l'incollatura bassa per brucare per nutrirsi da terra ha bisogno di muoversi e ha bisogno di avere interazioni sociali con altri cavalli perché dobbiamo occuparci sia del benessere fisico che mentale del cavallo e sappiamo e ci sono studi che lo dimostrano che se prendi cavalli che vivono fuori in un campo li porti in una scuderia e li chiudi in box dove non possono vedersi e toccarsi fra loro i loro livelli di cortisolo aumentano nonostante il fatto che quei cavalli siano abituati a stare in box il fatto che siano separati dai compagni prova immediatamente una risposta di stress quindi questo indica chiaramente dall'altra prospettiva che l'interazione sociale e il tempo in paddock è importante e il movimento è importante è completamente non fisiologico per un cavallo essere rinchiuso in un box per 23 ore al giorno non è quello che faremmo a noi stessi noi ci muoviamo costantemente non possiamo nemmeno stare seduti per più ore di seguito dobbiamo alzarci e muoverci e penso che l'intera industria equestre sia molto arcaica vive nel passato e non pensa sufficientemente alle cose ma ora abbiamo abbastanza conoscenze per dire che queste cose sono indiscutibilmente sbagliate tra le tante cose che abbiamo chiesto la dottoressa c'è anche appunto quali sono secondo lei le priorità per cambiare un po' la situazione nel mondo del cavallo che ci sono tantissime cose noi già sappiamo abbiamo già detto però abbiamo chiesto anche a lei il suo punto di vista penso che l'industria dei cavalli stia attraversando delle vere sfide in questo momento storico perché c'è un dibattito crescente quasi ogni settimana sulla licenza sociale per operare questa è l'accettazione pubblica di noi che andiamo a cavallo e questo è oggetto di un attento esame quindi penso che dobbiamo essere proattivi dobbiamo identificare alcuni dei problemi che esistono nel settore e mostrare che siamo determinanti nel guidare il cambiamento in modo che il grande pubblico possa vedere beh riconosco che ci sono alcuni problemi ma stanno cercando di migliorare la situazione quindi aspettiamo e vediamo cosa succede quindi sento fortemente che è importante farlo è uno dei modi davvero semplici per cambiare le cose è ora che osservando il comportamento del cavallo possiamo identificare i cavalli che soffrono e che sono a disagio e penso che dobbiamo pensare che in quanto cavalieri siamo atleti e dobbiamo prenderci alcune responsabilità per il nostro corpo e l'influenza che ha sul cavallo non è accettabile nella società di oggi anche solo pensare ora vado a cavallo così mi diverto un po' tutti quelli che vanno a cavallo devono pensare il mio cavallo è della misura adeguata per me posso montare in equilibrio la maggior parte degli atleti di altri sport dedica molto impegno alla postura e al modo in cui si muovono ma i cavalieri non lo fanno abbastanza forse i cavalieri di alto livello lo fanno ma quelli di livello inferiore no e penso che sia davvero importante che noi trasmettiamo ai cavalieri il senso di responsabilità per il benessere dei cavalli quindi dalla risposta si capisce che è un po' un insieme di cose sono tante cose che vanno messe insieme non è più preparo il cavallo deve saper fare tutto lui il cavaliere deve essere un'unione tutti quanti deve essere al top della loro situazione e poi chiaramente un cavallo che ha dei problemi il cavaliere sopra non li gestisce oppure non li sa gestire li può peggiorare semplificare in ogni caso va a innescare delle cose che non devono farne parte infatti abbiamo chiesto anche alla dottoressa se l'esperienza del cavaliere va in qualche modo a appunto indurre il cavallo a manifestare certi comportamenti o meno penso che dipenda dalla situazione in termini di ciò che sta inducendo il dolore quindi ad esempio abbiamo condotto uno studio dove abbiamo osservato 40 cavalli che erano montati che secondo i loro proprietari lavoravano serenamente e sono stati montati durante una prova durata circa 8 minuti erano montati dal proprio cavaliere e poi da un cavaliere professionista e una parte di cavalli non era del tutto sana alcuni erano zoppi e quei cavalli zoppi segnavano 8 o più comportamenti del letto gramma con il cavaliere migliore o con il professionista rispetto al cavaliere normale questi cavalli hanno migliorato la loro qualità di movimento perché il cavaliere professionista sapeva meglio come montare i cavalli ma il punteggio totale del letto gramma non è cambiato alcuni comportamenti individuali sono cambiati ma il punteggio complessivo del letto gramma non è cambiato ciò indica che un cavaliere professionista tuttavia non può nascondere segni comportamentali di dolore magari potrebbero essere in grado superficialmente di far andare meglio il cavallo ma poi c'è un altro scenario di cui sono stata molto consapevole la scorsa settimana mentre facevo un safari a cavallo in Kenya se prendi un cavallo che non ha un problema muscolo-scheletrico sottostante e lo fai montare da un cavaliere grosso e sbilanciato che rimbalza costantemente sul cavallo il cavallo mostrerà segni di disagio metti invece un cavaliere migliore su quel cavallo e quel cavallo mostra subito molti meno segni di disagio perché il disagio era indotto direttamente dal cavaliere penso che dobbiamo portare le persone nella giusta direzione e dobbiamo farlo in tutti i modi possibile e fare qualcosa come questo podcast penso che sia fare qualcosa potenzialmente molto di aiuto e penso che una volta che le persone hanno visto la differenza nei movimenti e nel comportamento di un cavallo che prima era dolorante ma a cui poi abbiamo tolto quel dolore e vediamo la trasformazione non puoi negare cosa il dolore può fare ad un cavallo e se sei un cavaliere e senti il cavallo la profonda differenza prima e dopo la rimozione del dolore è enorme e chiunque abbia vissuto personalmente questo è assolutamente convinto le persone dicono una volta che ho visto questi comportamenti e ho capito il loro significato non posso più ignorarli ok quindi tante cose tante cose messe insieme emerge sempre il discorso che l'estero ha una certa visione l'Italia ora noi magari siamo abbastanza afferrati su questo la visione italiana ce l'abbiamo abbastanza chiara su questi aspetti non vedo tante cose che rientrano in quello che ci ha raccontato nel senso siamo un po' indietro tante persone appunto vedo la dottoressa da un'idea di strumenti di cose dovrebbero essere ormai fruibili a tutti e come abbiamo visto anche con l'intervista al dottor Baragli non si spiega perché queste cose poi non arrivano non arrivano in fondo sul campo si la dottoressa lei arriva sul campo lei parte con la parte teorica la parte di ricerca ma poi lo applica anche quindi il giro diciamo in qualche modo viene concluso in Italia non c'è verso di fare questa cosa e come appunto veniva fuori anche il discorso del questo tipo di ricerca è applicabile allo sport sì sicuramente lì ci sono richieste maggiori tutto amplificato però magari è proprio lì che dobbiamo riuscire a interpretarlo e a renderlo più utile magari certo certo poi ritorniamo a dire che non solo è importante per un aspetto di benessere del cavallo ma è proprio importante anche per un rendimento migliore per chi magari non ha così a cuore il il binomio ecco però è chiaro che è un cavallo che sta bene è un cavallo che è più sereno alla fine è un cavallo che compete a livelli maggiori quando togli si ammala meno sì sì è tutto anche per l'aspetto lì perché poi quando tu togli tutti questi conflitti non ti trovi in campo gara a stare lì a spiegare energie a inventare cose a litigare e non sei mai sicuro neanche del risultato perché alcuni vedo che non riescono neanche a fare il percorso cioè c'è tutto un qualcosa che è talmente c'è tanto da fare sì sicuramente fare sport con un cavallo sano e sereno è molto più semplice che entrare in campo a litigare con le difese di tutti i tipi sì 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 e così speriamo di aver dato ai nostri ascoltatori ecco uno strumento in più serio concreto ormai più che scientificamente provato per iniziare davvero a guardare il cavallo con occhio più critico con occhio più attento e appunto interpretandolo nel modo giusto questo per me è fondamentale apre un altro scenario per il discorso addestramento perché è molto affascinante è sicuramente molto più non direi neanche fine perché è molto evidente certi volte infatti lo diciamo sempre anche un bambino che non ha studiato lo vede sono cose che se ne rende conto forse vanno interpretate meno alcune vanno vissute per come suona e basta vanno viste vanno guardate ok questo il silenzio dice tanto certe volte il silenzio dice molto più di mille parole ok allora speriamo di aver dato un quadro di questa di questa nuova ricerca andate ad approfondirla perché è davvero ampia appunto abbiamo detto è durata tre anni da quando da quando hanno pensata lavorata sul campo messa a disposizione c'è tanto materiale tanti video tantissimi cavalli tante cose e poi appunto sicuramente ci saranno state anche delle evoluzioni perché ora parliamo di cose già di qualche anno fa e speriamo di aver chiarito un po' ringraziamo tantissimo la dottoressa su Dyson e speriamo appunto di andare avanti con questa evoluzione ringraziamo anche Famine che ha fatto da tramite su questo difficilissimo compito perché una cosa fondamentale è che quando le cose vengono prese dall'estero bisogna capirle perché un conto è si fa una traduzione a una cosa questa è una cosa importante da capire in profondo quindi Famine ha aiutato a decodificare questa cosa e rendere affluibile a tutti quanti noi ottimo grazie mille alla prossima puntata a tutti grazie a tutti grazie a tutti